Non posso proprio vicinare. Andiamo sui tovalletti danni prima, si sono aperte delle palle, i cammini ai salvatori. Perdiamo carburante ogni secondo che passa. Sarò costretto a lasciarti il suono, mi dispi. Va bene, venetevi pronti con l'equipaggiamento. Lasciremo il nostro uomo da retro di questo Beetle. Che cosa faremo? Sei pronto? Lancio a breve. Scenderò quanto più posso, ma questa è una carretta, quindi muovetevi. Oh, da un sveglio di Zuzana. Dieci secondi. Andiamo. Buona fortuna, Marine. Stai a te, per l'idio. Appretto la tua gioia nel vederti, Alcatraz, ma dovrai procedere con cautela. Lockhart ha seminato per l'isola le sue forze scelte. Io ti guiderò come meglio posso, ma la mia visuale da qui è, diciamo, fortemente limitata. Accedi a Roosevelt, Thailand. Dirigiti a nord, verso il prisma. Oppostamento attivo. Vai lì, sono lassù. Pensavo fossero venuti a massacrarsi. No, sono metri in mezzo. Visto le fiamme. Andiamo a portare a tanto altro e cinque minuti. Sapro un treo. Tenete liberi i canali. Appostate il nuovo perimetro ai tuoi. Oppostamento attivo. Saffron 7, qui Oversight 1. Fate l'apporto. Occultamento attivo. Saffron 7, nulla di riserva da segnalare. Saffron 7, no cante infatti. Ha preso la posizione troppo sorpetto. Occultamento attivo. Occultamento attivo. Occultamento attivo. Passa allarme. Dunque, rallenta e ascolta bene, Alderman. Lockhart ha piazzato una trappola elettromagnetica alla barriera di controllo. Se dovesse attivarsi, friggerebbe tutti i sistemi della nanotuta e probabilmente anche le due sinapsi. Non puoi aggirarla, ma puoi ingannarla. Non lontano dalla tua posizione, vicino all'arrivo orientale. C'è una stazione di alimentazione del prezzo. Raggiungi la stazione elettrica secondaria. Occultamento attivo. 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 La trappola elettromagnetica passa per quella stazione e loro la stanno sovraccaricando. Se riuscirai ad attivare il blocco d'emergenza, il suo comando verrà aggirato. E una volta riattivati i sistemi, non saranno possibili altri blackout. Lui non lo saprà. Occultamento attivo. Perché non apparirà sullo schermo. Ma quando cercherà di attivare la scarica, fidati, farà cilicca. Bevia l'energia per disabilitare la trappola elettromagnetica. Occultamento attivo. Occultamento attivo. Occultamento attivo. Occultamento attivo. Occultamento attivo. Occultamento attivo. Cosa? Eccellente! Ora vattene via da lì il più rapidamente possibile. Nanovisione attivo. I cell avranno rilevato l'interruzione e verranno a indagare. Abbandona la stazione secondaria. Sono perso. Ricevuto. Bana. Danna. Contatto. Disegnate il bersaglio primario. Elimina il bersaglio e recupera la tutta. Nanovisione abilitata. Ammazzone! Gole. Musione abilitata. Non lo vedo più. Diciamolo. Succedere con la... Occultamento attivo. Granata! Non lo vedo più. Non lo vedo più. Non lo vedo più. Ah... Sì. 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 Fri! Ho bisogno di aiuto! Granata! Oculta me incantivo! Non lo vedo più! Occultamento attivo! Corazza massima! Pronto a muoversi! Granata in arrivo! Occultamento attivo! Corazza massima! Corazza massima! Venite! Ho bisogno di aiuto! Nanomissione abilitata! Granata! Giù! Occultamento attivo! Corazza massima! Corazza massima! Occultamento attivo! Occultamento attivo! osteo stato massima! Un lungo di Renata! Quilloer Anziani! Nessun bersaglio, zona a copra. Qui non c'è nulla. Occultamente attivo. Qui non c'è nulla. Qui non cattivo. Nanovisione abilitata. Adesso devi pressarli. Non dar loro il tempo di pensare a ciò che hai fatto. Stanno inviando rinforzi alla stazione secondaria. Procedi con cautela, Alcatraz. Siamo giunti fin qui. Non deludermi proprio ora. Occultamente attivo. Entra nel posto di caro. Visione abilitata. Occultamente attivo. La cosa si sta facendo in te. Interessante. Siamo signori. È nostro. Procedete. Esplosione confermata. Alza la porta interna. Porta interna attivata. Ci siamo. Cribella talono la pena nelle campanze di ronore. Non voglio correre rispetto. Occultamente attivo. Alcatraz. Sulla tua sinistra c'è una grata di scono. Sfondala e segui le condutture fino al fiume. Sblocco la porta di manutenzione e ti invio le coordinate di Lockhart. Fai presto. Muotesi! Ragazzi, passate al fuoco automatico. Occhio ai rimbalzi. Tantelosani. Elimita il comandante da TEC. Non è più приzzi. Nonna missione abilitata. Guardate! Non è più. Provatelo e albattetelo! Occultamente attivo Sanfron 10, il bersaglio potrebbe essere sul vostro fianco sinistro Ritenetelo al coro intanto L'attrapolo elettromagnetico a fare non abbia sortito il vento Preparatemi ad attaccare Occultamente attivo Devo fare tutto da solo? Siete soldati scelti, siete equipaggiati Qualcuno ti ripone le palle e uccide quel pezzo di merda Ti avevo avvertito Locard Hai fatto il passo più lungo della gamba La tua pantomima finisce qui Lei sarà il prossimo vecchio, lo giuro Finisco con questo coglione in tutta e poi penso a lei Basta di averne domenica Se fai un passaggio e se stai non fai Tieno già Occultamente attivo Uomini, milioni e cose che trascendono in qualità Vesta, cose in infagità Occultamente attivo Fanculo latina Vesta, fai un passaggio Ottimo lavoro figliolo, adesso devi entrare, sto prendendo l'ingresso del Prisma, raggiunti Introduciti nel Prisma e trova ArcGrey, nanomissione a unità Occultamento attivo Corazza Occultamento attivo Occultamento attivo Occultamento attivo Corazza Perfetto Grazie Spreca Esemplare Controllate i suoi valori vitali, poi trasportatelo al laboratorio, dobbiamo prepararlo il più in fretta È possibile, non abbiamo molto tempo Attenzione Sprezzamento dei sistemi Sprezzamento 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 Sprezzamento